Quindi io penso che su base clinicopatologica si possa dire che questo effettivamente è un melanoma in situ, RID-Nevos-like. Quindi io sono veramente convinto che il nevo di RID su cute fotodanneggiata dell'adulto, del volto, esista, ma sia una grande rarità e che questa diagnosi vada assolutamente confortata da un quadro clinico complessivo come quello che vi ho fatto vedere. Se siamo fortunati abbiamo lesioni multiple dello stesso paziente che hanno lo stesso pattern istologico e quindi di nuovo il nevo di RID dell'adulto su cute cronicamente fotodanneggiata secondo me esiste, ma è da considerare un'entità clinicopatologica, un po' come i nevi sclerosanti che vi ho fatto vedere prima. Esistono, sono diagnosi difficili da un punto di vista istologico e è bene avere un conforto clinico per questo tipo di diagnosi. Nevi giunzionali del viso. Allora, queste sono le ultime linee guida sulla formalizzazione dei referti del melanoma del College of Anatomic Pathologists americano. E fondamentalmente loro sottolineano di nuovo che le punch biopsies non vanno fatte. Allora, capisco che un istologo possa trovare difficile da digerire una punch biopsie, ma è evidente che prima di smontare il viso di una persona, fare una punch biopsie che ci dica che questa è una lesione melanocitaria sia assolutamente indispensabile. Il problema è che quando andiamo a vedere queste punch biopsies, effettivamente a volte si vede pochissimo, ma di un pochissimo, che è incredibilmente ingannevole da un punto di vista istologico. Quattro cellule alla giunzione, atipiche in verità, ma veramente quattro cellule alla giunzione. E qui ci dobbiamo veramente aggrappare al criterio di Bernie Ackerman, dice quando vedete teche giunzionali su cute fotodanneggiate state vedendo probabilmente una lentigo maligna. Quindi io non mi stupirei se in un caso di questo genere voi riceviate dal vostro istologo una diagnosi di nevo giunzionale, ma non dimenticate mai in questo setting il perché voi avete effettuato la biopsia. Non avete effettuato la biopsia per un nevo giunzionale, avete effettuato la biopsia per una lesione di questo genere, nel dubbio differenziale tra una lentigo maligna, una cheratosi seborroica, una cheratosi attinica pigmentata. E quindi non dimenticate mai il quadro clinico quando ricevete certe diagnosi istologiche, perché fondamentalmente ciò che istologicamente è difficile a volte da discriminare, benigno o maligno, clinicamente è abbastanza semplice, cioè le lesioni melanocitarie maligne dell'età adulta avanzata, del viso, non vanno in diagnosi differenziali con le lesioni melanocitarie benigne, ma con lesioni non melanocitarie. E quindi per voi è molto più semplice integrare il quadro istologico con il quadro clinico che avete davanti. Quindi questa è una lentigo maligna. È ancora più clamorosa secondo me questo quadro. Su questa istologia, credetemi, un istologo di grido mi ha fatto una diagnosi vedendo le immagini, di nevo giunzionale, perché effettivamente è molto, molto ingannevole. L'architettura ricorda molto quello del nevo di Clark, displastico, chiamatelo come volete. Di nuovo c'è l'elastosi solare, ma l'architettura alla giunzione sembra estremamente regolare, soltanto qui questa teca è un po' mal posizionata, ma insomma cosa volete che sia. Però questa è la clinica di questa lesione, questa è la dermoscopia. Questo non può essere in alcun modo un nevo giunzionale. E questo caso è un caso del dottor Ligrone, che nella audience è addirittura un caso strepitoso, perché questa paziente ce l'aveva da 30, 29 anni, 30 anni. Insomma, aveva da lunghissimo tempo questa lesione della fronte, che è evoluta molto lentamente con un'estologia estremamente differenziata, ma con un quadro clinico chiaramente da lentico maligna e non da nevo. La stessa cosa sulle lesioni acrali, brevemente. Quando bioptizzate queste lesioni che hanno un pattern parallelo lungo le creste, chiaramente non vi aspettate di dover fare una diagnosi differenziale di nevomelanoma sulla punch biopsy. Vi serve sapere se la lesione è melanocitica o no, perché la diagnosi differenziale è con un'altra lesione come questa, l'emorragia subcornea, che chiaramente ha, analogamente al melanoma, una pigmentazione sulle creste. E infine, spero di avere ancora un pochino di tempo, gli errori di campionamento macroscopico. Voi sapete che quando si invia un campione bioptico alla istologia, esiste un protocollo di osservazione macroscopica che precede naturalmente l'allestimento del vetrino. La lesione va esaminata e va sezionata. I protocolli correnti prevedono questo, il sezionamento della losanga cutanea del campione di biopsia scissionale sull'asse minore. Ok. Faccio vedere questa lesione, che è una lesione piccolissima del tronco di un signore di 51 anni. La lesione è compresa in un campo microscopico a 40 peri. E veramente sono 3 mm di lesioni. Tra i 3 e i 4 mm di lesioni. Ed è una lesione che ha un'istologia conflittuale, perché c'ha melanociti ativici, c'ha le teche, ma queste teche confluiscono in maniera irregolare. Un casino. Tanto che, di nuovo, un panel di istologi si è diviso nella diagnosi differenziale tra nevo e melanoma. Probabilmente perché era una lesione estremamente piccola, difficile come criteri differenziali, alle istologie proprio perché estremamente piccola. Questa è la clinica e questa è la dermoscopia. Possiamo dire confidentemente, cioè con confidenza, con ragionevole certezza, che questo non può essere un nevo. Come cavolo regredisce un nevo in questo modo? Non è possibile. E quindi, secondo me, la spiegazione, mea culpa, è questa. La lesione è stata sezionata sull'asse minore della losanga e quindi questo vetrino è rappresentativo di una esigua minoranza, in senso quantitativo, della lesione. E questo complica la vita in maniera straordinaria per l'esame istologico. Ma voi sapete che, clinicamente, questo non può essere assolutamente un nevo. Questo è un melanoma con regressione, naturalmente. Ora, il problema del campionamento delle lesioni melanocitarie è un problema estremamente delicato. Quando avete una lesione di questo genere, che ne capitano, per grazia di Dio, sempre più di rato, qual è l'unico problema che l'istologo ha? L'unico problema è l'assessment prognostico del livello non si parla più, diciamo, lo spessore, l'attività mitotica della lesione, la distanza dai margini. Fondamentalmente questo è quello che l'istologo deve fare. Non c'è una difficoltà diagnostica collegata con le lesioni di questo genere. Ma quando avete una losanghina cutaneina di questo genere, permetterete che il mio primo problema non è l'assessment prognostico, e il mio primo problema è la diagnosi. E per poter fare la diagnosi, se mi consentite, io devo avere sul vetrino quanta più lesione è possibile. Perché la quantità ha la sua importanza, come vi ho fatto vedere poc'anzi. Guardate che queste cose le ho dette più o meno un mese fa al Congresso Nazionale di Anatomia Patologica. Per cui alla fine abbiamo deciso di cambiare i protocolli di macroscopica, di preparare un documento per il cambiamento dei protocolli macroscopici sulle lesioni pigmentate. Allora, la quantità di lesione che si vede sul vetrino è secondo me cruciale per la diagnosi. Questo è un caso che viene da Londra, è una lesione plantare di una signora di 80 e passa anni, è una lesione poco sotto il centimetro. Allora, è poco pigmentata, a quel poco che si vede in periferia sembra onestamente pigmentato sulle creste e al centro soprattutto c'è un pattern vascolare che non esiterò a definire atipico. Questa è la istologia ed è una lesione onestamente molto strana da un punto di vista istologico perché mi aspetto il melanoma acrale e non ho l'iperplasia lentiginosa del melanoma acrale. Il melanoma acrale è caratterizzato da una prevalenza di crescita all'aggiunzione di singoli melanociti con un'iperplasia delle creste interpapillari che si allungano e diventano molto lunghe e sottili e ospitano singoli melanociti che crescono in maniera molto densa all'aggiunzione. Tutto questo in questo caso non c'è. E queste irregolarità all'aggiunzione sono di per sé irregolarità compatibili con un nevoacrale, anche se sembrano orribili. Credetemi, sono compatibili con un nevoacrale. Non di meno qui c'è stato un grosso dibattito anche nell'ambito della stessa istituzione tra i tre dermatopatologi di riferimento di quelle istituzioni in cui si sono divisi nella diagnosi. Io ho avuto la fortuna di essere il primo a vedere le immagini di questa lesione. La mia diagnosi è stata di malignità perché? La mia diagnosi è stata di malignità non tanto per la istologia. Io capisco che questa sia un'istologia stranissima. Ma sulla base di un ragionamento clinico, quando io vedo una lesione melanocitica della cute acrale che sia presente con un'attività giunzionale, con una componente giunzionale rilevante, in una lesione che sia di dimensioni superiori ai 6 cm o di almeno 6 cm, in un paziente che è più vecchio di 45 anni, io devo partire dal presupposto che quella lesione sia maligna. Allora possiamo metterci d'accordo sui numeri. Però il concetto deve essere secondo me chiaro. Una lesione acrale è tanto più probabilmente maligno quanto è più grande e il paziente è più anziano. Fa eccezione naturalmente il nevocongenito che può essere anche grande, però diciamo gli elementi di preoccupazione da un punto di vista clinico devono scaturire da età e dimensioni della lesione. Ora, quando voi dermatochirurghi togliete una lesione, non la togliete in accordo con quelli che sono i protocolli macroscopici, microscopici del vostro anatomopatologo. Togliete la lesione in rapporto alle linee di Langer. Allora io mi sono guardato queste immagini. Qui le linee di Langer naturalmente decorrono trasversalmente. Questa lesione è stata sicuramente asportata in questo modo. Il caso non è mio, non posso certificare quello che vi ho detto, ma sono certo che la lesione è stata asportata in questo modo e sono altrettanto certo che è stata sezionata in questo modo. Allora io non ho l'autorevolezza per mettere in discussione una diagnosi fatta da Edoardo Calongi o da Martin Mimmi. Io mi chiedo semplicemente, perché loro sono sicuro, non se lo sono chiesto, sono sicuro di questo, questa sezione è veramente rappresentativa della totalità di questa lesione. Cioè abbiamo a disposizione una quantità di tessuto lesionale che ci consenta di arrivare ad una diagnosi storologica congrua, in questo caso. Per non parlare poi delle neoplasie strutturalmente ideogenee, questo è un caso di Harald-Kittler, questa è una lesione che è un nevo banale qui, giusto per tornare alla problematica del nevodisplastico, questa lesione sezionata a questo livello è istologicamente un nevo banale, sezionata qui è chiaramente un melanoma in situ. Quindi nelle lesioni strutturalmente ideogenee è quanto mai cruciale che si abbia a disposizione anche, quantomeno, qualche immagine clinica, qualche notizia clinica, qualche repere che il clinico metta per consentirci di sezionare la lesione. Qui vado velocemente perché veramente il tempo è scaduto. Io credo che il sistema migliore possa essere quello di posizionare due punti di sutura da un lato della lesione e un punto di sutura dall'altro, oppure utilizzare con la cancellina, con il liquido bianco che serve per cancellare, posizionare tre spot ai lati della lesione, la cancellina resiste alla processazione istologica e si vede come una macchia nera poggiata sulla cute, per cui con questi reperi l'istologo sa che deve sezionare in questo modo. Sul vetrino troverà una macchia nera da un lato della lesione e quindi avremo anche la possibilità di orientarci su ciò che sta a destra e su ciò che sta a sinistra. Questo vale naturalmente per le neoplasie e melanociti strutturalmente eterogene, come vi ho fatto vedere in quel caso che mi ha prestato Harald Kitter. Per quanto riguarda le altre, credo che noi istologi dobbiamo fare un po' di ammente e dobbiamo ripensare ai nostri protocolli di osservazione e di sezionamento macroscopico di queste lesioni. Grazie a tutti voi per l'attenzione. C'è chi sta abbandonando l'aula. C'è chi sta abbandonando l'aula, disperato. Quella foto del 1978. Non ti sento, perdona. Quella lentigine del 1978. Era già un melanoma? Ovviamente non abbiamo la certezza di quello che stiamo dicendo perché la lesione non è stata asportata nel 1978. Tuttavia, l'evoluzione clinica ha fatto vedere come la lesione chiaramente maligna si è insorta nella sede dove era presente quella lentigine. Quindi è da presupporre che quella lentigine fosse già di per sé un melanoma in situ. I revisori del lavoro che abbiamo pubblicato non hanno avuto granché da ridire su questo.